un saluto a tutti al vostro tony e benvenuti in questo nuovo video in cui vi voglio parlare di una news che se non avete visto ve la mostro io perché c'è il un leak che è diventato virale su tiktok che sembra mostrare un primo gameplay del gioco e sembra avvenire tra l'altro quindi potrebbe essere anche abbastanza attendibile la cosa questo gameplay da figlio di uno sviluppatore rockstar che potrebbe essere in questo momento abbastanza incazzato perché sta rischiando grosso quindi il figlio di un sviluppatore di rockstar north che pare sia responsabile di questo leak che è diventato virale e mostra alcuni secondi di un gioco open world una mappa urbana molto vasta e difficilmente riconoscibile bene scritto anche qui perché non è collegata a gta 5 e soprattutto non è collegata a nessun gioco attualmente presente sul mercato come dicono come ve l'ho detto anch'io dicono anche qui ci deve essere un padre parecchio arrabbiato in quel di rockstar in questo momento però quello che abbiamo noi e che adesso vi farò vedere è un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere la mappa di gta 6 vi ricordo che un primo trailer di gta 6 è previsto per 5 dicembre 2023 alle 15 e come avevo detto anche nel video di sabato scorso non mi aspetto che un granché ci sarà forse un minuto di di trailer che però ci farà abbastanza venire sicuramente la colina in bocca allora io ve lo faccio vedere direttamente qui adesso ve lo ingrandisco e quindi questo ragazzi viene praticamente fatto vedere lo schermo del pc sul quale viene montato adesso ve lo rimando anche è uno screener però vi fa vedere una una mappa abbastanza ampia devo dire come ho detto anche prima non è gta 5 non è nemmeno nessun altro gioco che attualmente è disponibile quindi la cosa è molto molto interessante adesso se riesco ragazzi ve lo rimando anche al rallentatore se volete vedere qualche dettaglio in ogni caso ci stiamo avvicinando a questo titolone anche se probabilmente dovremmo aspettare almeno un anno però sembra sia arrivato il momento di capire qualcosa di più di poter vedere qualcosa di più su questo gioco che sicuramente ci stupirà tutti quanti vi ho parlato nel precedente video del di tutte le novità ci sono anche novità un po meno attendibili secondo me che ho volutamente tralasciato come il fatto che il gioco potrebbe venire a costare secondo colon e discrezioni oltre 150 dollari io spero sinceramente che abbia un prezzo più ragionevole ragazzoli questo è tutto mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su qualsiasi novità sul gta 6 oltre che ovviamente al più classico del canale il gran turismo 7 e ricordatevi che mercoledì pomeriggio appuntamento con il trailer andiamo a vederlo insieme andiamo a vedere tutti i dettagli insomma andiamo a cercare di capire cosa si può assimilare da questo primo trailer anche se come vi ripeto come ho detto anche prima secondo me sarà abbastanza breve e farà capire molto poco in realtà vi mando un super salutone ragazzuoli noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao da Tony89